L'importante sequestro, 20 kg di cocaina purissima, che se venduta avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro. Era destinata sicuramente non solo al mercato di Cagliari, ma all'intera isola. 20 kg di cocaina purissima, proveniente dal Sud America, che se messa sul mercato avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro. L'operazione della squadra mobile di Cagliari è scattata ieri mattina, quando un tir proveniente da Livorno, che trasportava concimi e fertilizzanti, condotto da Luca Serri, 42enne, originario di Torino, ma domiciliato a Cagliari, è sbarcato a Olbia. È stato pedinato dalla polizia lungo la statale 131, fino alla sosta in un'azienda florovivaistica di San Sperate, dove gli uomini della sezione criminalità diffusa della squadra mobile sono intervenuti e all'interno del mezzo hanno ritrovato un borsone con la cocaina suddivisa in panetti. Grazie ai messaggi presenti in un telefono cellulare è stato possibile avere la certezza dell'appuntamento e il nome dell'acquirente finale. È scattato così il blitz. Il tir è stato fatto ripartire con un poliziato al suo interno per raggiungere un cappannone abbandonato nella zona industriale di Macchiareddu. È lì che è avvenuto lo scambio. Ad attenderlo c'era Giovanni Portas, quarantenne e pregiudicato di Cagliari, che ha consegnato al camionista 20.000 euro in contanti per il trasporto della droga, ha caricato la cocaina nella sua auto ed è proprio in quel momento che sono intervenuti i poliziotti. Abbiamo tratto in arresto due persone. Il destinatario del carico, Giovanni Portas, di Cagliari, e l'autotrasportatore. Andiamo avanti per cercare di capire soprattutto la provenienza dello stupefacente. Per Portas e Serri sono così scattate le manette. I due rischiano sino a 30 anni di reclusione e 260.000 euro di multa.